Musica Sono Dario Di Girolamo, sono il direttore della direzione Roma Capitale dell'Agenzia del De Magno. Sono Fabrizio Tucci, professore ordinario di progettazione ambientale, direttore del dipartimento di pianificazione e design tecnologia dell'architettura della Sapienza, Università di Roma. La direzione Roma Capitale ha candidato per questo format tra i 20 siti un edificio vincolato storico-artistico che si trova in un'area vicino alla Tiburtina, è un edificio di circa 1000 metri quadrati ed è stato progettato ed edificato i primi anni del Novecento. Il bene è l'ex casa del fascio, è un immobile piccolo ma di grande importanza e anche di grande fascino, purtroppo in stato di degrado ormai da molto tempo, però ha delle grandi potenzialità e soprattutto è sito in un'area, la località cosiddetta Sette Camini, per la quale c'è un progetto di rigenerazione urbana nell'ambito dei progetti di città 15 minuti che vede proprio come fulcro iniziale, come volano, come elemento chiave che poi darà vita a una serie di altre azioni, di altri interventi di rigenerazione, proprio nella riqualificazione dell'ex casa del fascio. È importante partecipare perché c'è la forza di un format, perché si lavora in squadra, si possono avere dei punti di vista alternativi. È un'azione visionaria.